Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi in questo video porterò una collaborazione insieme ad Andrea Congiu e in questo video faremo una collaborazione giù in descrizione dove avrete i suoi social e il suo canale YouTube dove ha fatto la collaborazione con me. E in questo video lui farà un trigger, il mic brushing, e io farò gli hand movements, puma sounds, mentre sul suo canale porterò un altro trigger io, che non ve lo dico, per scoprirlo dovete andare a visitare il suo canale e anche lui farò un altro trigger, trigger trigger. E prima di iniziare vi ricordo anche di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per ricevere le notifiche di quando pubblico un nuovo video, lasciare un like a questo video e di commentare qua sotto. Seguitemi anche sul mio proprio Instagram, TikTok, 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 e iscrivetevi anche al mio canale Telegram. E nulla, io direi di iniziare con il video. Grazie a tutti. Sì Ticco, 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 ticco. Ticco, 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 ticco. Ticco, 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 ticco. Ticco, 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 ticco a presto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti